Il teologo è innanzitutto un credente che ascolta la parola del Dio vivente e l'accoglie nel cuore e nella mente. È uno dei passaggi del discorso di Papa Francesco e membre della Commissione Teologica Internazionale, ricevuti stamani in Vaticano. Ricordando la nascita della struttura sulla scia del Concilio Vaticano II e lo spirito di servizio che l'anima, il Pontificio invita i teologi ad aprire gli occhi e ad ascoltare umilmente ciò che lo spirito dice alle Chiese, intercettando però i segni dei tempi. Di grande importanza poi è la presenza significativa delle donne teologhe che, proprio in virtù del loro genio femminile, possono rilevare lati inesplorati del mistero di Cristo. Sull'aspetto internazionale della Commissione, Papa Francesco ricorda che la diversità dei punti di vista deve arricchire la cattolicità senza nuocere all'unità. Così è necessario non ignorare approcci teologici sviluppati in contesti culturali differenti, ma integrarli perché è lo Spirito Santo che semina le verità carismatiche della Chiesa. Infine un riferimento a Maria, donna dell'ascolto, della contemplazione, della vicinanza ai problemi della Chiesa e della gente, maestra di autentica teologia, alla quale bisogna guardare per entrare nella verità.